ciao a tutti mi presento sono andrea benati siete sul mio canale andrea benati youtuber per pensione e volevo un po parlarvi di me sono diversi anni che sono su youtube ho sempre fatto dei filmati con cellulare poi caricato sulla piattaforma senza modificarli senza montarli e senza colonna sonora ora sto prendendo le cose un po più seriamente ed è se guardate il mio canale non ho ancora un identità ben precise un po in salatiera se volete potete lasciare scritto sotto nei commenti quelle che vi piacerebbe vedere su questo canale visto che l'ho considerato un salatiera trovare fuori qualcosa che possa interessarvi a tutti voi e poter gratificare anche me perché ci sono filmati con le foto dei miei viaggi parlo un po dei miei cani delle mie gare cinofili e non ho ben preciso ancora su che ramo devo instradarmi questo lo vedrò più avanti quando capirò bene quello che vi interessa di più sono diversi anni che sono su youtube ho sempre fatto dei filmati col cellulare poi caricato sulla piattaforma senza modificarli senza montarli e senza colonna sonora ora guardano come butte canale e vedere se arrivano altri iscritti tanto per darmi una spinta in più per continuare solo a quel punto comincerò a farmi l'attrezzatura un po più idonea con microfoni luci eccetera eccetera intanto vi faccio vedere quello che c'è come vi ho detto sto registrando con un cellulare s22 ultra e se riesco arriverà anche a acquistare una fotocamera tanto per fare delle immagini un po più decenti ora vi porto alla mia postazione e vi faccio vedere la mia attrezzatura mi scuso ancora per le immagini poco nitide e la voce poco chiara questo è il mio monitor 32 pollici della apple col programma cap cut aperto per che fra un po comincio a montare il video questo computer anche lui un apple però più recente perché il logo è diverso da questo e qua ho aperto invece cava il programma di grafiche per fare le mie miniature eccetera eccetera poi voi che bazzicato youtube sapete meglio di me questi sono tutti i trofei che ho vinto con le gare dai miei cani ne ho anche lì ok ho anche altri trofei qua quindi ringrazio tutti quanti per essere rimasti fino ad ora qua con me l'invito a scrivere il canale ad attivare la campanellina a lasciare mi piace e a condividere questo filmato con tutti i vostri amici un'ultima cosa signor cap cut e signor canva visto che vi ho fatto la pubblicità e vi faccio i complimenti per i vostri programmi che sono facili intuitivi e molto versatile se volete io sono qua grazie ciao 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 ciao